In questa Village è stata presentata in anteprima la mostra itinerante del centenario del Giro d'Italia, un giro tra l'altro nel quale si vedrà anche Armstrong, però di questo ne parleremo tra un attimo. 13 maggio 1909, 127 ciclisti prendono il via da Piazzale Loreto a Milano per il primo Giro d'Italia. Da allora sono trascorsi 100 anni nel segno della passione per il ciclismo, per gli sprint e per le salite, celebrati in questo centenario da grandi eventi sportivi e culturali. 100 anni d'Italia attraverso il Giro d'Italia, si va al di là e al di fuori dell'agonismo puro per entrare in un alveo che è quello della cultura che sottolinea i momenti socialmente importanti di questo paese. Anteprima della mostra itinerante a Fidenza, raccolte le grandi imprese dei campioni di ogni tempo che hanno solcato le tappe della leggenda. Sono ricordi stupendi, favolosi, la maglia rosa è qualcosa che ti dà il senso del primato, cioè di una corsa popolare come il Giro d'Italia. Cent'anni di emozioni, celebrati con la pubblicazione e un secolo di passioni. Ad esaltare i volti, le espressioni e le imprese dei protagonisti che hanno indossato la maglia rosa, tra tradizione e cambiamento. Soprattutto la bicicletta è cambiata, è più leggera, le strade sono cambiate, è rimasta una cosa molto importante, uguale di quella che c'era allora, c'è anche oggi, la fatica. Andare in bicicletta è fatica, pedalare in salita è molto fatica, quindi credo che quella non cambierà mai. Ora non resta che attendere il via del centesimo Giro d'Italia, che racchiuderà in sé un secolo di storia. Rappresenterà a mio giudizio la sommatoria di cento anni di Giro d'Italia già vissuti, ma che al momento stesso rappresenterà anche una pietra miliare per guardare i successivi cento anni con l'entusiasmo e la passione di sempre.